ciao glitterine bentornate sul mio canale ieri su instagram ho postato delle foto in cui facevo vedere il trucco che mi ero fatta e soprattutto per quanto riguardava gli occhi e mi sono arrivate delle richieste di volevano essere spiegate come l'avessi fatto quindi ho deciso di caricare questo video su youtube in modo che tutte le mie glitterine potessero vederlo e quindi ho deciso di farlo oggi e ho già fatto la mia base trucco e ad operando questo qui il fresher fit e wake makeup dell'essenza numero 0 10 che già ho applicato e devo dire che l'ho applicata non con la mia solita beauty blender ma devo dire che la grande sorpresa e rivelazione mi sono trovata molto ma molto meglio a lavorare il fondotinta con questa qui l'avevo sottovalutata la comprai tempo fa ma ancora non l'avevo utilizzata comunque ragazzi farò un tutorial e ne parlerò ancora meglio di di questa qui mi sono trovata veramente benissimo molto meglio della beauty blender assorbe meno prodotto e lo stende meglio io mi sono trovata molto meglio provatela e ditemi con quale vi trovate bene facciamo una bella una gara tram tra i due beauty blender oppure questa spazzolina qui io devo dire che questa qui per me ha vinto in assoluto fatto questa premessa ho messo questo fondotinta ho usato questo correttore nel 6 all day 16 ore dell'essence per andare ad illuminare gli occhi per invece andare a coprire ho utilizzato sempre dell'essence il camouflage e il full coverage questo è il 10 nude dell'unica colorazione presente bene come cipria fissante ho messo sempre dell'essence loba all about matt fixing e poi questa terra sempre essenz ovviamente il sun club matte bronzing powder nelle labbra per il momento applicato soltanto il burro cacao e ricapitoliamo burro cacao pl3 mi si è inceppata la lingua oggi sono tutta impastata il special protector un emolliente protettivo per labbra e famosissimo si trova in farmacia al costo di circa 5 euro se non sbaglio detto questo trucco occhi velocissimo semplicissimo da fare tutti i giorni naturale perché sapete che non mi piace caricare gli occhi per il giorno per lo sono andata ad utilizzare la bellissima e utilissima palettina in love with rose shadow box la 02 happy ever after dell'ultima collezione dell'essence voi sapete che la prima che ho comprato è stata questa qui ora andiamo ad utilizzare questa semplicissimo trucco molto molto semplice prendo il mio pennellino dove l'ho messo allora qui praticamente ho una serie di pennelli solo che ora non riesco a trovare intanto togliamo ci vestiamo un po da mini alcuni ha detto che è ridicolo è carino però per fare i video tenere i capelli anziché si impiastricciano tutti allora ragazzi il problema è che non riesco a trovare il pennello da sfumatura e quindi vado ad utilizzare utilizziamo utilizziamo l'avevo poco fa va bene non è importanza risolviamo subito lo andiamo ad applicare con questo qui ok vado a prendere prima questo colore qui più chiaro e lo vado a stendere faccio sempre lo specchio quindi devo dire questa paletta è favolosa con pochissimo prodotto proprio davvero poco poco guardate quanto prodotto prende c'è tantissimo ok trucco velocissimo ieri l'ho fatto tipo 5 minuti che avevo premura così nel frattempo anche testato la palettina ragazzi se la trovate prendetela ok ora non vi preoccupate lo andiamo a sfumare prendiamo togliamo l'eccesso con lo stesso pennellino non è importante perché vogliamo sfumare tutto prendiamo questo qui più scuro un po più scuro ok e lo andiamo a mettere solo nella parte finale non su tutta la parte fino fino a qui a metà ok sono molto scriventi e facili da sfumare non andiamo a metterlo qui altrimenti incubiamo di più gli occhi poi con un altro pennellino io prendo questo qui bello cicciottello così prende tutto il colore e vado a prendere il bianco questo qui che non è scimmere un bianco matt con l'eccesso lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare partendo dall'interno degli occhi ok poi mi dispiace che non riusciate a vedere bene comunque vado a mettere un altro poi in modo che si evidenzi bene poi con il pennellino che ho utilizzato poco fa non prendo altro prodotto perché già basta quello che c'è è quello che vado a sfumare e andiamo a lavorarlo non andiamo con il colore questo rosa malva che ho messo fino all'arcata altrimenti poi andiamo a impiastricciare tutto e non si vedrebbe neanche la rima ok sopraccigliare intendo devo dire che voi sicuramente mi vedete più con un colore più scuro più forte ma vi assicuro che è molto leggero vediamo se spegnendo la luce no peggio comunque vi assicuro che il colore è più chiaro di quello che vedete voi ok non sto comendo la luce di oggi cioè mi fa anche l'ombra mi fa gli occhiai che non ho strano molto poi stesso procedimento prendiamo lo stesso colore di prima togliamo l'eccesso e andiamo a iniziamo di qua prendiamo un altro po' ok con questo possiamo anche andare a definire dare la definizione all'occhio quindi non c'è bisogno di usare altro intendo come colore di transizione e non vado a prendere ragazzi prendete davvero pochissimo prodotto ma davvero poco poco perché ne basta proprio un pizzico con l'altro andiamo a prendere questo qui sempre l'altro colore che ho utilizzato ovviamente come ho detto prima non su tutto l'occhio ok e poi andiamo a togliamo l'eccesso un po' di questo qui e andiamo a prendere quello più chiaro il bianco e facciamo la stessa cosa soltanto nell'arcata sopraccigliare non vi preoccupate se sembra molto prodotto esserci molto prodotto andiamo tutto a sfumare ok andiamo ad amalgamare il tutto tra l'altro ragazzi forse me ne manca solo una di queste palette ma non mi piaceva nei colori credo che fosse la numero uno quella con colori molto molto scuri non mi piaceva e andiamo a sfumare tutto quanto ovviamente vi ripeto non sotto le sopracciglia perché altrimenti viene brutto l'effetto ok ieri ho messo anche un pochettino qui sotto ora mettiamo appena appena nella rima inferiore poco altrimenti sembra che avete sbattuto contro qualche cosa quindi anziché il trucco sembra avere un livido e non vogliamo quell'effetto ok sistemiamo facciamo un altro po' di questo ok dopo che abbiamo fatto il tutto qua non ho capito perché sembra che io abbia mi assicuro che non è ecco vedete non è così messa così sembra che c'ha che tutto il trucco mi è finito qui sotto ma non è così quindi andiamo a mettere il mascara io utilizzo questo qui essence sempre il maximum definition volume mascara credo che questo si trovi ancora chiudiamo la palettina non ci serve più ok e andiamo a mettere il mascara lo decidete voi quanto se volete un effetto più pesante più più leggero ok tra l'altro oggi scusate la voce ma ho un po' di mal di gola ebbene sì anche a maggio con questo caldo che sto facendo in questi giorni io ho mal di gola penso di essere l'unico caso ok e poi andiamo a fare l'altro occhio cioè ieri mi sono arrivate diverse richieste per questo trucco occhi e quindi ho detto va bene io voglio fare contenti tutti mi fa piacere lo faccio con passione e con amore solo per questo mi diverte mi diverte ok questo è l'effetto lo mettiamo anche sotto così lo faccio identico a quello di ieri non troppo sotto perché anche sotto ho le ciglia molto lunghe non vorrei che sembrassero tipo dei ragnetti attaccati tipo ragnatele no? non mi piace ok ok poi volevo fare un'ultima cosa volevo andare ad applicare applico questo qui questo qui chiaro soltanto qui io mi sono dimenticata voi fatelo prima questo passaggio di mettere un po' di ombretto glitterato un pochettino qui solo al centro ma appena appena giusto per dare quel quel punto punto luce non di più fatelo prima di mettere il mascara io l'ho dimenticato altrimenti tutto il fallout del prodotto va a finire sulle ciglia che già avete sistemato ok io ho già fatto tutto come lo prendo di qui come rossetto metto questo qui e le color up shine on dell'essence sempre questo nude lo dovete mettere sopra il burro a cacao non è importanza molto naturale e vado a togliere questo qui che mi che ok ok ragazzi trucco velocissimo semplicissimo mi era stato richiesto ve l'ho voluto e vi ho voluto fare il tutorial subitissimo anche se non si può dire e niente ragazze io vi aspetto sempre iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti i video scrivetemi giù nei commenti mettete un like seguitemi anche su instagram col nome di misclo e make up ovviamente io vi auguro una buonissima giornata besitos e besis a tutti ciao ciao